bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di delle teorie e quest'ora abbiamo delle teorie molto interessanti proverò a parlare anche con la voce un po più alta perché non mi si sente tanto e non mi si sente quasi per niente e quindi dovrei parlare a voce molto più alta ma in questo video vi parlerò di una teoria e adesso non è come lo scorso video mi sembra non so nemmeno ah no non l'ho pubblicato praticamente era un video del come si chiama era un video riguardante secondo me come sarebbe stata la stagione 10 e ci avevo anche ragione perché avevo detto che stratus nella sua versione rossa all'incontrario nel braccio ci aveva scritto time e io pensavo che andassero indietro nel tempo infatti così è stato ma adesso ma non ho pubblicato il video perché era venuto male non sapevo editare perché avevo messo ad esempio ora metto un'immagine qua ma non sapevo come metterla quindi però ora la so metter l'immagine quindi state tranquilli quando dirò ad esempio metto un'immagine qua ci sarà davvero è che sarà invisibile le metterò davvero le cose di cui vi devo parlare sono che tutti sanno che il 20 settembre ovvero tra pochissimo perché oggi è il 18 meglio io sto registrando il no aspetta sì oggi è il 18 stavo registrando il video il 18 ma magari non so quando lo metterò come si sa il 20 settembre ci sarà un attacco all'area 51 ovviamente è non è veramente lo fanno così apposta uno l'aveva messo su facebook apposta ma c'è gente che c'è ma c'è gente che lo fa seriamente non lo fa per finta lo fa veramente lo fa seriamente e il 20 settembre ci sarà questo ride dicono che la gente andrà lì a liberare gli alieni perché dicono che nell'area 51 insomma ci saranno tengono gli alieni imprigionati e fanno degli esperimenti l'epic games ovviamente non si poteva far scappare questa piccola cosa ed infatti metteranno una skin dell'area 51 ovviamente e la skin che metteranno ve la farò vedere proprio qui questa qui sarà la skin dell'area 51 e praticamente bruttissima cioè no è bellissima perché ha un occhio sono è un alieno stranissimo con dei denti bruttissimi e infatti se vedete sulla maglia c'è scritto 51 sul braccio e sul corpo c'è scritto 51 ora non so se non so che immagine metterò e non so se si vedrà bene la maglia con scritto 51 c'è scritto 51 e sotto qualcosa di alieno non so cosa vuol dire sicuramente questa skin uscirà il 20 settembre perché il 20 settembre vanno ad attaccare l'area 51 insieme a questa skin però uscirà anche avete presenti a montagnole maledette c'era c'è una specie di angelo e praticamente si uscirà questa skin qua come state vedendo che è il ranger dell'amore però versione femminile quindi c'è la versione c'è la versione maschile e la versione femminile la versione femminile secondo me è mille volte meglio cioè è fighissima la versione femminile quella maschile dai anche quella è bella ma la gente la versione maschile la comprava solo per le ali secondo me quella femminile la comprerà per le ali perché anche le ali sono fighissime ma secondo me anche per la skin perché la skin anche se è fighissima se passiamo ora passiamo oltre e abbiamo una fighissima collaborazione come sappiamo c'è un rift beacon a tilted town ok accetta pinnacoli però io non l'ho capito visto che il visitatore ha già cambiato pinnacoli e perché lavori di cambiare di nuovo perché c'è la collaborazione fortnite per batman e ora sì ragazzi sì la skin di batman c'è non hanno fatto quella di hit perché la gente aveva paura dei clown e non hanno fatto la skin di hit però la skin di batman la faranno guardate qua c'è sta è stato trovato nei file di gioco il dorso decorativo di batman e qual è è questo qua ragazzi questo è il dorso decorativo di batman ovviamente il suo mantello e è fighissimo cioè proprio fighissimo ovviamente ci saranno anche in gioco oltre al mantello che al dorso decorativo ancora la skin non si sa qual è sarà sicuramente una skin criptata che dobbiamo dobbiamo ancora trovare ad esempio bananita mac ecco appunto nonostante la collaborazione per batman avete presente tutti bananita bananita è la banana della stagione numero 8 quella skin fighissima che peccato non ho più perché ho perso l'account e fighissima hanno fatto la skin in sé poi hanno fatto una specie di altra skin di bananita che è jonesi bunker più o meno hanno fatto il dorso decorativo di bananita che era il frullato bananita e poi che hanno fatto poi ora faranno un bundle come sappiamo a ogni season ci sono i bundle finali con i vbac avete presente tipo inferno poi punto di rottura che c'era anche il vbac è uguale sarà per bananita mac anche bananita mac avrà sarà un bundle che si può trovare nel negozio non nel negozio oggetti proprio nel negozio dove andate a comprare i vbac ci sarà bananita mac se voi comprate questo skin facendo delle missioni ovviamente i vbac adesso non si sbloccheranno più facendo delle missioni giornaliere perché ovviamente non ci sono più ma ora vi metto anche le immagini del della come si chiama delle missioni di bananita mac infatti questo qua sono le missioni io non so cosa vuol dire ma secondo me sono di completare le avete presente che ci sono le sfide normali quelle lì spara e spera poi come si chiama quella lì non mi ricordo però ci sono le missioni spara e spera quella lì i mondi si scontrano che sono non sono limitati cioè non hanno un tempo limite finiscono quando vanno vanno via quando va via la stagione avete presente le come si chiamano le sfide a tempo limite che ci sono che tipo che ne so fenditura a rottami quella lì mi sembra era un era una missione a tempo limite che durava ad esempio che ne so nove giorni facciamo a caso durava nove giorni e nulla e praticamente durava nove giorni ad esempio poi se ne andava via potevi avere 10 stelline post battaglia se sbloccavi la schermata di caricamento potevi avere anche una stellina segreta che la stellina segreta era baggata con la schermata di caricamento del bruto ma comunque sì probabilmente quando completerai quelle sfide ti daranno anche 100 vbac ti daranno in un totale allora prima sfida 200 un 100 vbac 200 vbac 300 vbac 400 vbac e 500 vbac vi daranno quindi non so quanti vbac vbac avrete voi non so parlare scusate non so quanti vbac avrete voi ma fate conto se fate una missione ve ne da 100 se ne fate altre due ve ne da 200 poi altre due ancora 300 altre due ancora 400 e altre due ancora ti danno 500 vbac ora con inferno ti davano dopo che ti hanno dato ad esempio 400 vbac con inferno ti davano il piccone e la mimetica ora io il piccone non credo che ci sarà un piccone perché un piccone di bananita c'è già che non viene tanto spesso nel negozio ma è il pili pic se mi ricordo mi faccio vedere anche un'immagine che è questo qua in italiano non mi ricordo come si chiama ma è fighissimo mi ricordo l'avevo comprato ed era era bellissimo e nulla questo è tutto per le collaborazioni con batman infatti vi volevo far vedere che usciranno questi due oggetti qua che presente il primo è il batman grapple gun e il secondo non mi ricordo come si chiama tanto voi lo potete vedere noi ora io ho finito di parlare c'è il lift beacon a tilt town e nulla grazie per avermi seguito spero che abbiate una buona giornata avevo intenzione di cambiare la canzone dell'altro e forse anche l'altro perché non lo so però la volevo cambiare in poche parole ditemi sotto nei commenti se vi piace la canzone finale dell'altro oppure se volete che la cambi magari scambio la canzone dell'altro con la canzone della intro perché la canzone della intro cioè mi piace di più la canzone dell'altro vabbè sto facendo un casino spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciate like se non lo dico mai di lasciare like che ci penso cioè non lascio mai di lasciare like condividerlo iscrivervi e attivare la campanella e grazie per avermi ascoltato vi ricordo di nuovo di condividerlo così gli altri amici i vostri altri amici saranno potranno capire che cosa sta succedendo su fortnite se magari non hanno molto tempo per giocarci forse infatti perché è iniziata la scuola noi ci vediamo al prossimo video e farò i video anche più in là tipo alle due o all'una perché anche io da fare la scuola allora per ora esco all'undici e mezzo però magari voi l'avete iniziata un po' un po prima e uscite già all'una non so che ora uscite ma preferisco fare il video verso le tre almeno che c'ho più tempo e poi fa prima faccio il video poi mi metto a fare i compiti anche perché è iniziata la scuola ma compiti c'è da fare visto che sono rimbambito ed è finito il mio video perfetto e visto che sono rimbambito faccio ripartire io sono rimbambito e non so bene non mi ricordo di fare i compiti noi ci vediamo al prossimo video grazie per avermi seguito